Ciao ragazzi, oggi parleremo di miscugli e soluzioni e sono assolutamente certa che voi già sapete di che cosa parlo, perché quante volte a tavola avete miscelato la coca cola con l'acqua e siete stati rimproverati, oppure in cucina di nascosta mamma avete utilizzato la farina e miscelata con l'acqua, oppure ancora a colazione vi preparate una tazza di latte con tanti cucchiaini di zucchero, ecco avete preparato dei miscugli oppure delle soluzioni, dipende da cosa avete utilizzato. Definiamo cosa si intende per miscuglio quindi, il miscuglio è l'insieme di due o più sostanze, se ad esempio prendiamo un grammo di sale e lo misceliamo ad un grammo di pepe ottenremo un miscuglio eterogeneo perché è costituito da prodotti diversi mescolati che poi possono essere anche separati con una pinzetta se ci armiamo di buona volontà e tanta pazienza. Ecco qua il nostro miscuglio. Anche questo è un miscuglio, è solido, che tipo di miscuglio è? Cosa ti ricorda? Ne parleremo in classe. Altri esempi, panna, miscuglio di latte grasso e aria, schiuma del mare è un miscuglio di acqua e aria, schiuma da barba che è sapone e aria e anche l'olio e l'aceto che utilizziamo per condire l'insalata è un miscuglio di tipo eterogeneo perché le sostanze sono di natura diversa. Quindi ci sono miscugli di tipo diverso, dipende dalle sostanze, a volte solido è gas, solido è solido, liquido è liquido, dipende da cosa misceliamo tra di loro. Si possono separare i componenti di un miscuglio? È una domanda e io rispondo di sì, sì è il laboratorio, ma a volte anche nella vita di tutti i giorni noi separiamo le componenti che si chiamano fasi di un miscuglio. Come si fa? Vediamo prima nella vita di tutti i giorni in cuscina, ad esempio se vogliamo separare la farina integrale e quindi separare la parte bianca dalla crusca che è la parte esterna del chicco di grano, usiamo il setaccio come in questo caso e per separare le foglioline di tè messe in infusione quando prepariamo il tè, una tazza di tè utilizziamo il colino e ancora per separare l'acqua di cottura dalla pasta utilizziamo uno scolapasta. In laboratorio esistono dei metodi sicuramente più sofisticati, più scientifici diciamo. Uno di questo è la filtrazione, si utilizzano delle carte da filtro come vedete qua che hanno una porosità diversa a secondo di quello che si vuole trattenere perché come vedete questa miscela in cui c'è una parte gialla e una parte rossa viene versata all'interno di questo imbuto dove è stato messo un rivestimento di carta da filtro, quindi la parte gialla riesce a percolare al di sotto e quindi nel contenitore mentre la parte rossa viene trattenuta dalla carta da filtro. Un altro metodo è la decantazione, cosa vuol dire? Lasciare per qualche tempo il miscuglio liquido solido ad esempio aspettando che le particelle solide per gravità raggiungano il fondo del recipiente come in questo caso dove già le particelle hanno raggiunto il fondo del recipiente. Anche nella vita di tutti i giorni, nel quotidiano usiamo la decantazione, pensateci poi in classe ne parliamo. Adesso vediamo cos'è una soluzione, è sempre un miscuglio, però è un miscuglio particolare, è omogeneo, cioè le sostanze dopo la miscelazione si suddividono in particelle talmente piccole da non poter più essere visibili neanche al microscopio ed è più difficile separare le fasi, le parti diciamo di una soluzione. Quanti tipi di soluzioni abbiamo? Ci sono soluzioni liquido-liquido, cioè si miscelano, si uniscono dei liquidi tra di loro, ci sono soluzioni gas-gas, ad esempio la nostra atmosfera è una soluzione di tanti gas, azoto, idrogeno, ossigeno e tanti altri ancora. Ci sono anche soluzioni gas-liquido, come ad esempio l'acqua minerale nella quale è disciolta l'anidride carbonica che dà quelle bollicine. Ci sono poi soluzioni solido-solido, come ad esempio le leghe metalliche, cioè si uniscono ad alte temperature negli alti forni due o più metalli miscelati, ad esempio il bronzo che è una lega di rame e stagno o l'acciaio che è una lega di ferro e carbonio. E qui vediamo alcune soluzioni liquido-solido, ad esempio il caffè nel quale è stato messo lo zucchero che è solido, oppure l'acqua per cucinare la pasta nella quale si fa disciogliere il sale da cucina, oppure ancora la bevanda, la coca cola nella quale viene, sapete che mi pare che in 100 ml di coca cola ci siano circa 30-35 grammi di zucchero, che è la parte solida. A scuola porta altri esempi di questo tipo di soluzioni, solido-liquido. Ancora, soluzioni liquido-liquido. Acido acetico, l'acqua, l'alcol e la parte acquosa del vino, anche in questo caso porta a scuola altri esempi. Soluzioni liquido-gas. Torno nuovamente la coca cola, perché stavolta consideriamo che questa soluzione è costituita dalla parte liquida, acquosa e dalle bollicine costituite da anidride carbonica, o ancora l'acqua minerale di cui abbiamo parlato prima, nella quale appunto sono disciolta l'anidride carbonica. Anche in questo caso porta altri esempi a scuola. soluzioni solido-solido, che sono le leghe metalliche, in questo caso è una moneta di bronzo, oppure le posate d'acciaio che utilizziamo nella vita di tutti i giorni. Ed anche in questo caso pensa ad altri esempi e ne parleremo nel nostro brainstorming a scuola. Allora, in una soluzione la parte più abbondante è detta solvente e la parte meno abbondante è detta soluto. Nell'esempio dello zucchero sciolto in acqua, l'acqua è il solvente e lo zucchero è il soluto. Misceliamo in un bicchiere di acqua, ad esempio 250 ml di acqua, un cucchiaino di zucchero. Dopo un po' non riusciremo più, come abbiamo detto prima, a vedere i granellini, quindi diciamo che lo zucchero si è solubilizzato formando una soluzione. Anche in questo caso porta altri esempi di soluzione. Questo tipo di soluzione si dice diluita, perché la quantità di zucchero è poca rispetto alla quantità di solvente, quindi la quantità di soluto è poca rispetto al solvente. Ma cosa accadrebbe se continuassimo ad aggiungere zucchero a una soluzione? Come in questo caso, in questa immagine, potete vedere come abbiamo una soluzione molto diluita nella A, un po' più concentrata, cioè c'è più zucchero o comunque più soluto nell'immagine B, mentre nell'immagine B è successo qualcosa, adesso vedremo, perché il soluto lo ritroviamo nella parte bassa del recipiente. Allora, in questo caso cosa è successo? Si è formato una soluzione satura, ovvero una parte di soluto non si è dissolto. Per gravità scende al fondo e si dice, appunto, corpo di fondo. È quello che accade quando nello zucchero, nel caffè, si mettono troppi cucchiaini di zucchero. Non vi è capitato mai che poi sul fondo della tazzina, una volta che si è bevuto il caffè, rimane quella quantità abbondante di zucchero, è perché la soluzione che si è formata tra zucchero e caffè è satura e quindi è rimasto il corpo di fondo sul fondo della tazzina. Una soluzione quindi è una miscela, ripetiamo, omogenea, in cui i componenti, che sono le molecole, si mescolano liberamente, si muovono, magari a volte li aiutiamo noi a muoversi, per esempio, nella tazzina con lo zucchero, giriamo con il cucchiaino il caffè. E quindi si dice che il soluto si è solubilizzato, si solubilizza. Questa è un'immagine che serve a farvi vedere un po' come si miscelano tra loro le parti di una soluzione. Abbiamo una soluzione in cui è presente un cristallo di iodio, a volte queste soluzioni vengono utilizzate per la disinfezione delle ferite e a poco a poco, girando con la bacchetta di vetro, il cristallo di iodio si solubilizza, si miscela. All'inizio rimane una parte costituita da acqua e la parte arancione, finché tutto il colorante, che non è altro che è il cristallo di iodio diluito, si miscela perfettamente. Vedete qua, nello schema in cui ci sono le molecole dell'acqua che circondano il cristallo, che poi alla fine si è solubilizzato e quindi le molecole sono assolutamente miscelate tra di loro, amalgamate forse si potrebbe dire, anche se non è corretto, tra loro. In chimica la solubilità è la capacità quindi di una sostanza di sciogliersi in un'altra dando origine ad una soluzione. Anche le soluzioni, le parti di una soluzione si possono separare, è un po' più complicato, ad esempio un modo per separare l'evaporazione si fa evaporare il solvente e si ottiene il soluto. Per evaporazione si ottiene ad esempio il sale quando l'acqua del mare viene lasciata nelle saline durante il processo di estrazione del sale. Un altro esempio è la distillazione per evaporazione dell'acqua del mare per ottenere acqua potabile con i distillatori. Si fa evaporare l'acqua, il vapore poi si fa condensare, si abbassa la temperatura e durante l'evaporazione il sale resta al fondo, il vapore quindi è quasi diciamo quasi privo di sale. Con questo io ho finito, spero di essere stata abbastanza chiara, portatemi tutti gli esempi che vi ho chiesto e studiate bene perché a scuola ci eserciteremo, faremo un'attività proprio preparando miscugli e soluzioni. Ciao a tutti!